Ragazzi, voi non avete minimamente idea da quanto tempo io aspettassi questo momento. Sono mesi, 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 che dedico infinite energie, infinito lavoro, infinite risorse monetarie, di tempo. Ho creato un team, tutto quanto, per il mio primo progetto imprenditoriale, vero, chiamato Learn. Learn, scritto con due N, poi vi spiegherò perché, vedrà ufficialmente la luce l'1 giugno. Fino ad allora, quello che noi faremo sarà pubblicare un contenuto al giorno dall'11 maggio al 31 maggio all'interno di tutti i nostri canali social di Learn che abbiamo appena aperto, YouTube, Facebook, Instagram e Podcast, per dare l'occasione a chiunque di consumare i contenuti nel modo in cui lo preferisce. E questi contenuti saranno su tematiche come pricing, abbonamento, produzione e distribuzione dei contenuti e remote working e produttività. Ecco, anche se questi contenuti potranno essere chiaramente fruibili da chiunque sui nostri canali social, al tempo stesso abbiamo deciso di creare una pagina di opt-in sul nostro sito ufficiale chiamato al learn.com, dove chiunque si può iscrivere, chiaramente gratuitamente, sapete che non faccio spam, e semplicemente avere accesso a tutti i contenuti che pubblicheremo sui canali social in maniera più ordinata e oltre questo avere accesso al nostro canale Telegram per rimanere aggiornato e oltre questo al nostro gruppo Facebook dove discuteremo tutti questi contenuti. Ma sapete che a me non piace fare le cose standard ed è per questo che, oltre questo, ho deciso che su tutti i miei canali social personali di Luca Mastella, invece di pubblicare semplicemente i contenuti di Learn, quello che farò sarà fare una specie di reverse engineering di tutto quello che è stato il percorso nella creazione del progetto Learn e soprattutto di analisi, insights, key study, parlerò di tutto quello che è il lancio, di come io e il mio team realizzeremo il lancio di Learn. Ecco, un sacco di persone mi avevano chiesto di parlare di un lancio, ma sapete che a me non piace semplicemente parlare di un lancio, mi piacerebbe di più mostrare un lancio ed è per questo che in questo lancio, che è mio e del mio team, potremmo condividere tutti questi dati, risultati, che stadi insieme a voi. Beh, prima di salutarvi, vi voglio semplicemente dire appunto che tutti questi contenuti, l'abbiamo già detto, dall'11 maggio al 31 maggio, li potete direttamente trovare sui nostri canali social o, se preferite, direttamente trovarli più organizzati e avere accesso al gruppo Facebook, andate direttamente su learn.com e puoi trovare tutto. Ma chiaramente qui un sacco di persone si stanno ponendo la domanda, ok Luca, ma che cos'è Learn? Penso che non sia, secondo me, utile parlarvene adesso. Preferisco molto di più farvi vedere che cos'è Learn l'1 giugno. Quello che vi posso dire però, primo spoiler, non è un corso, e invece il secondo spoiler più importante è il fatto che io ho dedicato infinite, infinite ore, infinite energie. Ma tutto questo mio lavoro deriva semplicemente dal fatto che questo progetto rappresenta al 1000% i miei valori e tutto quello in cui io credo profondamente. E questo penso che basti per giustificare mesi e mesi di lavoro su questo progetto. Penso che nelle prossime settimane vedremo veramente delle cose interessanti.